Allora ci troviamo presso Mastellone Euronics a piano di Sorrento con Claudio Mastellone Euronics, un'icona tra pochissimi istanti, questo grande evento dello sport del calcio naturi con due calciatori che non vogliamo ancora svelare in ono o puoi darci qualche piccolissima anticipazione di chi sono questi atleti che questa sera onoreranno naturalmente presso il tuo punto vendita. Siamo felici veramente di questo evento ed è una sorpresa per i nostri clienti, una sorpresa di Natale per una vita di due calciatori del calcio Napoli coordinato tutto da Daniele Deci Belbellini che animerà la serata, speriamo che sia una bella serata. Potresti svelarci i nomi visto che i nostri grandi estivatori di Positano News adesso in questo istante vogliono sapere perché non vogliono venire chi sono questi due calciatori i nomi? Sono due grandi giocatori, siamo Walter Gargano e Duvanzapata. Grazie Claudio, grazie a voi e l'invito a venire qui e l'invito a tutti a venire qui da noi a trovarci. Di tutto e di più.